Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare il 10 febbraio prossimo al campus di Coste Sant'Agostino il nuovo anno accademico dell'Università degli Studi di Teramo. Un Ateneo quello teramano che con grande impegno intende perseguire un cammino teso al rafforzamento delle politiche sociali attraverso la sua nota scuola di legalità, l'inclusione e la lotta contro ogni discriminazione di genere, meriti per i quali il Presidente Mattarella ha confermato la sua presenza a Teramo, mentre le immatricolazioni aumentano del 15%. Certo fare un bilancio complessivo di tutto un anno, perché è tantissimo, possiamo ripercorrere i momenti più importanti di questo 2019? Certo, io guardando il video, i 16 minuti intensi e incalzanti, la prima cosa che mi viene in mente di dire, confesso che abbiamo vissuto e l'altra cosa che mi viene in mente è una prospettiva per il futuro, vi prometto che vivremo ancora più intensamente. Abbiamo rafforzato la nostra convinzione che l'inclusione e l'impegno per i diritti e il rispetto delle diversità sia un elemento fondamentale, non solo a livello sociale ma anche e soprattutto nella formazione e oserei dire nella ricerca. Questo nostro impegno ha portato durante il forum del Gran Sasso alla conferenza dei rettori africani, in presenza del Presidente Conte abbiamo firmato la carta di Teramo, quindi un impegno di tutte le università italiane per una collaborazione bionivoca con i paesi africani, quindi non assistenzialismo ma collaborazione vera. Abbiamo rafforzato il nostro impegno verso la legalità e la giustizia, quindi attraverso la scuola di legalità, partita ricordo con il premio nazionale Borsellino che ringrazio ancora per l'impegno. Abbiamo fatto partire dei corsi multidisciplinari per la parità di genere, consentitemi di ringraziare ogni singolo studente. Il bilancio di fine anno del Rettore Mastrocola termina con un pensiero carico di affetto e gratitudine per Don Enzo Chiarini, il missionario terramano recentemente scomparso che aveva dato l'avvio alla collaborazione tra l'Ateneo Terramano e le università africane. In quest'ottica è lo slogan scelto per definire l'Università di Teramo, nessun confine, solo orizzonti.